dai veloce e siamo qui regia siamo pronti siamo qui con maggie anderson ciao buonasera e con noi buonasera a tutti siamo all'inaugurazione di un lo di un locale stavo dicendo di alla massima ma arriva beh ricominciamo da capo allora siamo a guidonia montecelio con ciao buonasera con noi mi blonde ciao all'inaugurazione dello scarlet è un locale un locale nuovo che apre stasera e insomma siamo qui a fare l'inaugurazione e che dire avete lanciato la bottiglia contro la porta avete lanciato la bottiglia contro la porta no 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 ci lanciamo le donne sopra la porta a te te l'hanno lanciata dall'altra parte la bottiglia allora spettacolo stasera si spettacolo stasera e vabbè non solo mio che vabbè sono sexy star insomma chi è nel campo più o meno insomma mi conosce ma sarà un locale nuovo perché abbiamo spettacoli comunque circensi del burlesque quindi spettacoli nuovi per quanto riguarda questo tipo di ambiente che ci siamo un tutti scocciati dei soliti spettacoli quindi certo qualcosa di nuovo anche qui si organizzano feste si 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 con il saselles show di cui insomma abbiamo delle attività al celibato al nubilato si si vabbè poi facciamo anche quello certo poi ci sta un po di tutto è chiaro si 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 è il locale che l'hai visto visto l'ho visto infatti già mi sto organizzando con il proprietario per prendere delle date future quindi mi raccomando veniteci a trovare qui poi a Noemi le cose grandi gli piacciono quindi insomma attento al microfono che lo faccio sparire attenzione anche al parapetto però insomma ecco dunque è un locale grande no è molto bello siamo a via del barco si 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 a via del barco numero 7 mi pare qui si qui a Guidonia non è tipo no no sì anche noi abbiamo avuto un qualche problemino con il navigatore però siamo arrivati dai sana e salve e tu di Terme la conosci Noemi sei mai venuta? guarda ci sono venuta tipo due volte ma non la conosco senti c'è un amico che voglio salutare lo posso chiamare? facciamola entrare vai prego ecco è carissimo presenti è un amico Massimiliano Pistilli buonasera a Sosex buonasera siamo venuti a trovare questi amici con Maggie Henderson e le sue adorabili amiche che cos'è la Sosex? la Sosex è una federazione che cura diciamo la gestione dei locali la gestione sia il tesseramento dei locali e tutta la parte civilistica la parte istruttoria dei locali per l'apertura burocratica possiamo la parte burocratica ecco quindi a tutti quelli a cui serve Massimiliano mi raccomando a Sosex a Sosex quindi in tutta Italia siamo presenti con oltre 55 strutture in questo momento ma stiamo in crescente insomma Noemi mi diceva che sta per partire per Milano sì io la settimana prossima sarò a Milano e diciamo che giro un po' tutta l'Italia come sai poi finalmente lavorerò a Roma all'Harmony Club a piazza 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 vabbè comunque a San Giovanni da quelle parti di là San Giovanni da Igor e Francesca infatti proprio oggi ti ho visto al telefono di Igor mi hai fatto la tua foto e quindi è un piacere di incontrarti questa sera qui ma questa sera abbiamo anche degli ospiti pazzeschi che appena li riesco a trovare perché sono Franca Codi la mia amica feticista con il suo compagno però in questo momento non li trovo perché saranno indaffarati speriamo che riescono a venire a farci un saluto e quindi ecco si stanno preparando quindi i tuoi prossimi impegni guarda in questo momento siamo appena tornati dal Garda Sex un evento importante una fiera meravigliosa con Franco Trentalance tantissimi altri attori porno con la Michelle Ferrari che girano con il camper con I Want You quindi fanno Pro Viniard Rocco Parisi eccetera eccetera tantissimi amici che sono stata oltretutto felicissima di vedere di vedere e di rincontrare insomma e lei dal Bergamo Sex viene no? dal Bergamo Sex sì ma sì io Bergamo Sex ho lavorato Fumagalli vabbè io ogni anno sono fissa lì ormai faccio parte della sua scuderia sembra che il Mi Sex non c'è no il Mi Sex no è stato sostituito con il Bergamo Sex perché Fumagalli diciamo ma eccola la signora carissima puoi farci l'onore ecco la carissima Franca Codi che è la mia amica fea la mia amica feticista quindi certo speriamo di ma a parte come ospite ma anche certo di organizzare qualcosa di feticista visto che va per la maggiore vero? sì bondage feticista feticismo dei piedi noi siamo diciamo i fautori del feticismo dei piedi siamo stati quelli che abbiamo sdoganato il feticismo dei piedi in televisione anni fa e ancora adesso abbiamo questa feticiaus se si può fare un po' di pubblicità visto che siamo qua la casa del feticismo dei piedi e siamo contenti anche di portarlo diciamo all'esterno in giro di farlo di fare dei tour di farlo conoscere insomma va benissimo io penso che è sparito il conduttore il conduttore è diventato cameraman secondo me dobbiamo ricordare i nostri indirizzi allora la Franca dove la possiamo trovare? noi abbiamo due siti uno è www.ilfeticista.com e www.francacodi.com che sono la zarina del feticismo dei piedi bene poi Massimiliano Pistilli poi vado? sì vado poi Massimiliano Pistilli sì con assosex.com per l'apertura dei locali e la gestione burocratica di tutto quello che occorre per l'apertura e la gestione dei locali poi con me che sono Maggie Anderson e con la mia pagina Facebook quindi come Maggie Anderson con date e indirizzi di tutti i locali dove mi esibisco e poi? e poi vabbè io sono una marea il mio sito ufficiale è www.noemibland.it la mia pagina ufficiale Facebook Noemi Blond e poi da oggi in poi mi trovate pure su Instagram che mi sono iscritta da due giorni e già sono arrivata a 1200 seguaci quindi mi raccomando seguitemi li vedrete tutte le date di dove sono mercoledì 15 ottobre mi troverete all'Harmony Club da Igor quindi venitemi a trovare anche lì e vabbè anche al gender dai loro anche il gender dai con Danilo famosissimo siamo locali trans pazzesco con tutti e loro ci diamo totalizzare tutti i locali sì sì tutti tutti quanti perché il piantimento è un bacio a tutti un bacio e a presto viva il sesso che pazzo grazie a tutti grazie a tutti